Ciao ragazzi voglio aggiornarvi sulla situazione del coronavirus direttamente da Shanghai, dalla Cina Cercherò di darvi tutte le informazioni che volete sapere Soprattutto da qualcuno che in Cina ci vive e sta vivendo questa cosa Queste sono le informazioni che vi darò Cercherò semplicemente di evitare di parlare dei numeri degli infetti Per diversi motivi che forse non devo neanche spiegarvi Andiamo ai fatti, questo è quello che sta succedendo Hanno chiuso più di 8 città, tra i quali ovviamente Wuhan Questo vuol dire che quasi 50 milioni di persone sono state messe in quarantena Vuol dire che nessuno può entrare in queste città e nessuno può uscire da queste città Né per via aerea né per strada Aeroporti chiusi, stazioni di treni chiusi, i mezzi sono stati bloccati Ci sono solo se non sbaglio 6.000 taxi nella città di Wuhan che possono portare le persone in giro Le persone in queste città hanno ovviamente paura di uscire di casa Se lo fanno lo fanno semplicemente per andare a fare una grossa spesa Con una o due mascherine e con gli occhialini perché il virus entra anche dagli occhi A Wuhan stanno costruendo un ospedale di emergenza da mille posti Sarà pronto il 3 febbraio, circa una settimana di lavoro Tra l'altro se non sbaglio China Unicom gli ha messo il 5G in tre giorni per facilitare le comunicazioni E in più sono stati mandati circa mille medici ad aiutare gli ospedali di Wuhan A Shanghai che è dove vivo io tutti i giorni disinfettano i mezzi e le metro E in più è in atto un piano anticontagio Chiunque arrivi a Shanghai da una delle città più contaminate verrà preso e messo in isolamento per 14 giorni Dopo vi spiego perché 14 giorni Come fanno queste persone ad arrivare a Shanghai se le città sono state chiuse? Qualcuno può chiedersi Semplicemente perché prima di chiudere un sacco di persone sono uscite da queste città Le mascherine in Cina sono tutte sold out In qualunque farmacia non ci sono mascherine disponibili Anche online sono sold out E molte persone non spediscono per colpa del capodanno cinese Inoltre a chi si trova in Cina voglio dire di stare molto attenti a comprare le online Perché è venuto fuori che c'è gente che prende le mascherine usate e le rivende Quindi quando le buttate via tagliatele in mille pezzi Molte scuole hanno già rimandato l'apertura di oltre due settimane Alcune anche un mese Il capodanno cinese è stato esteso fino al 3 di febbraio E tutti i festeggiamenti, tutte le attrazioni turistiche, tutte le attività di massa sono state cancellate Come viene trasmessa la malattia? Viene trasmessa per via aerea Ovvero tramite delle goccioline messe da uno starnuto, da un colpo di tosse o da uno sputo Anche attraverso la membrana mucosa che ricopre la superficie anteriore del bulbo oculare In pratica anche dagli occhi Quindi l'ideale sarebbe avere una mascherina e degli occhialini che aderiscano In modo da evitare il contagio Qui sono le persone più a rischio? Secondo i dati le persone più a rischio sono gli anziani che presentano già delle malattie croniche respiratorie o renali Adesso parliamo dell'incubazione del virus L'incubazione va dagli 1 ai 14 giorni Che cosa vuol dire incubazione? L'incubazione è il periodo che va dal contagio alla comparsa dei sintomi Per esempio qualcuno starnutisce Io inalo e prendo il virus Ho 1 o 14 giorni per iniziare a star male Per questo motivo le persone che arrivano a Shanghai Vengono messe in isolamento per 14 giorni Se dopo 14 giorni non presentano nessun sintomo Vengono lasciate andare in giro per la città tranquillamente Allora che cosa sappiamo del virus? L'unica cosa che sappiamo è che è molto simile a quello della SARS Ma che è meno letale ma più facilmente trasmissibile Parlo velocemente delle voci che girano Che potrebbero essere vere quanto false Ho già guardato una montagna di video Sia in cinese, inglese che in italiano Ci sono medici che parlano di oltre 100.000 persone infette Ci sono persone che mandano messaggi dicendo che alle 4 di pomeriggio Disinfettano le città con gli aerei Ci sono persone che dicono che vicino al supermercato X dell'area Z di Shanghai Ci sono un sacco di persone di Wuhan che stanno Allora lasciamo perdere tutte queste voci Chiaramente prendiamone atto ma non andiamo in panico Perché potrebbero benissimo essere tutte cavolate Quali precauzioni prende? Lo sanno già tutti però Evitare il contatto con i malati Stare lontano dagli animali Lavare le mani in continuazione Fare esercizio fisico Tenersi in forma regolarmente Se siete in Cina forse è meglio farlo in casa che andare fuori Però continuate a farlo Indossare una mascherina, dei guanti E a questo punto direi anche degli occhialini se possibile Nei casi più estremi Allora che cosa mi aspetto io personalmente? Se la situazione peggiorerà Potrebbero chiudere gli aeroporti anche nelle grosse città come Shanghai e Pechino Molti dicono che è molto improbabile Perché durante l'epidemia della SARS non lo fecero Però questo è un virus diverso ed è più facilmente trasmissibile Quindi non si sa Per chi è fuori dalla Cina non c'è un motivo di preoccuparsi al momento Soprattutto perché si trova in Italia In Cina si sta facendo di tutto per tenerlo all'interno del paese Però ci sono già molte persone che sono chiaramente andate all'estero In Cina nessuno sta sottovalutando il problema Siamo in una situazione dove appena prendi un raffreddore Corri all'ospedale dalla paura E se tutti corrono all'ospedale per un raffreddore Gli ospedali sono pieni E la possibilità di prendere il virus aumenta Qui facciamo di tutto per non prendere neanche un normale raffreddore Perché finire in un ospedale in questo momento Non è assolutamente una bella esperienza Qui in Cina siamo tutti attenti Ma allo stesso tempo siamo tutti nel dubbio Perché non sappiamo di chi fidarci Non sappiamo se fuori dalla nostra porta c'è il virus Quindi usciamo il meno possibile Se usciamo andiamo anche noi semplicemente a fare la spesa Evitiamo di mangiare fuori Siamo tutti abbastanza nel dubbio Ma tutti molto attenti Per chi sta organizzando un viaggio in Cina Semplicemente monitorate la situazione Perché? Perché come ho detto nel video precedente Vedremo la reale situazione solo alla fine del capodanno cinese In sostanza dopo la metà di febbraio Calcolando il periodo in cui la gente si muove E l'incubazione del virus Siamo sicuri che dopo la metà di febbraio Se non la fine di febbraio Capiremo la reale situazione Tutto qui Questo è l'aggiornamento Spero di non dovervi aggiornare nuovamente Speriamo che la situazione migliori E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao